buongiorno amici ma soprattutto amiche di my own workout primo vlog del 2024 sono un po segnato perché abbiamo appena completato un bel lavoro di nordic run in collina sono con stato con alcuni clienti che stanno martellando con lo sci di fondo dove si può quindi stiamo simulando più che mai le varie tecniche nordiche in un'ora e zero tre a parità di frequenza cardiaca abbiamo bruciato sullo stesso percorso tanto quanto avevamo fatto in circa un'ora e venti un'ora e venticinque di corsa e detto questo entro di slancio nel discorso di questo vlog che mi ero segnato ancora su zibaldone negli ultimi giorni del 2023 si parlava di vo2max con quale metodologie andarla a migliorare ci sono tante scuole di pensiero c'è la scuola dell'allenamento polarizzato 80 20 che asserisce una cosa ci sono i sostenitori dell'hit allenamento intervallato ad alta intensità che ultimamente stanno tirando fuori il discorso della biogenesi mitocondriale grande parolona sembra a quanto pare ci sono degli studi che hanno rilevato che con i lavori h it quindi che si presuppone svolti a zone di intensità tra il 100 e il 105 per cento della bio2max che non è quasi mai così per molti adesso vi dirò anche perché viene ad attuarsi questa biogenesi ovvero vecchi mitocondri vengono sostituiti con mitocondri nuovi allora qua ci sono dei processi fisiologici che seguono una linea un andamento piramidale nella costruzione delle fasi di allenamento che non sono indipendenti l'una dall'altra la risposta secca è alla domanda il lavoro a z2 alza migliora la bio2max certo che migliora la bio2max però nel lungo periodo cosa significa il lungo periodo lungo periodo nella costruzione ad esempio della base aerobica che in una periodizzazione lineare normalmente richiede tra le 10 e le 12 settimane ok si dice già che un atleta che porta a termine questo periodo sia già all'80 85 per cento di sviluppo nella propria capacità aerobica quindi già a quel punto c'è un'ottima proliferazione di mitocondri con quella base poi e questo va sottolineato ci deve essere in primis quella base che permette di fare cosa di sostenere lavori sostenere tamponare c'è il buffer aerobico del lattato che viene a crearsi dove nei lavori intervallati ad alta intensità che si presuppone possano anche essere degli ibridi intervallati nel tra le z4 e le z3 per molti ecco allora con quella base aerobica costruita in 10 12 settimane si vanno ci si concentra diciamo anche per quattro settimane è già sufficiente al lavoro intervallato ad alta intensità e allora sì che nel breve medio periodo c'è un boost ulteriore a questa base che abbiamo su cui abbiamo già lavorato per molte settimane c'è un boost sulla vo2 max se voi vi ritrovate a fare ad esempio come propongo ipotesi nei lavori hit di stamina kickbox cardio combat che sono degli hit ma possono anche essere dei protocolli tabata se voi già fate in alla prima settimana dove iniziate a integrare questi lavori qua fate uno di questi lavori vedete già che il vostro dispositivo vi indica il trend vo2 max in crescita e questo con quella base avviene nel breve medio periodo ma che non me la vengano a raccontare che si è possibile partire dai lavori intervallati ad alta intensità per questa per attuare mettere in atto questo meccanismo della biogenesi mitocondriale perché non è così e chi dice così vi vende del fumo negli occhi quindi il discorso dell'allenamento intervallato ad alta intensità è la parte 20 per cento dei protocolli polarizzati 80 20 in cui 80 per cento diciamo che anzi nel mio modo di interpretarlo può essere 70 per cento lavori in z2 10 per cento lavori in z3 e poi ci sono quella parte del 20 per cento che è costituita da hit fartlek ripetute lavori intervallati comunque interval training in generale e questo in termini molto generici poi logicamente ci sono degli sport che consentono di ottimizzare il tempo in allenamento trascorso nelle z2 per quale ragione e il miglioramento della vo2 max avviene più velocemente rispetto a fare lo stesso protocollo di allenamento ipotesi con sport che interessano soltanto delle parti del corpo isolate tipo la corsa che è il miglior condizionatore per tutti gli sport a livello generale ma nelle z2 è inferiore come stimolo ed effetto allenante a sport soprattutto comparata a sport quali l'indoor rowing che sono sport che io definisco olistici perché interessano tutto il corpo che si muove all'unisono in sincrono in un unico movimento o in un unico flusso di tempo di esercizio l'indoor rowing chiamiamolo anche canottaggio in senso lato e soprattutto i nordic sports qua porto sempre logicamente l'acqua al mio mulino ma non può essere diversamente perché gli sport nordici che usano i quattro arti come propulsione a parità di tempo d'esercizio alla stessa frequenza cardiaca della corsa migliorano il trasporto e l'utilizzo di ossigeno in minor tempo è stato calcolato ipotesi che 40 minuti di nordic running o ski striding o nordic o combinazioni nordic run ski walking sportivo comparati ad esempio alla corsa alla stessa frequenza cardiaca 40 minuti di nordic run o anche ski di fondo equivalgono a circa un'ora un'ora e cinque di corsa alla stessa frequenza cardiaca quindi concludendo qual è il discorso generale ve l'ho fatto in apertura ci sono poi le attività full body che richiedono un fabbisogno di ossigeno maggiore per il fatto che abbiamo più muscoli a disposizione alcuni allenamenti di circuit training possono essere sicuramente più produttivi per quanto riguarda l'utilizzo di ossigeno ipotesi se paragonati a 30 minuti di jogging non è un caso che in molte mie schede di allenamento i lunedì e i venerdì sono dedicati a questi lavori a circuito aerobici o di cardio fitness variegato e permettere varietà appunto a schede che sarebbero altrimenti di sola corsa quindi è stato un assist questo che mi era stato girato molto interessante meritava un uno sviluppo quindi ricapitolando i due sistemi le due zone di intensità non sono indipendenti ma sono strettamente dipendono e vanno a braccetto sono strettamente correlate l'una con l'altra molto bene ragazzi concludo qua se il video è stato di vostro gradimento e l'avete trovato utile condividete like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto auguro a tutti un buon 2024 allenamenti intelligenti e come sempre a bombazza